eeeh c'è tutta la cazza è venuto in questo prossimo video di Ark Survival Evolver stavo già registrando ma mi ho trasciato il gioco c'è perchè devo cancellare i caricamenti oltre c'è Clistalism che io ho già giocato e non è nemmeno pagamento è molto bello è carino sapete rara raga magari adesso nel commento vi stai dicendo Andre che domenica è il primo polnoptero va bene lo faccio in questo episodio era uscito il momento del gioco perchè dovevo gio... dovevo cancellare tutti i caricamenti falliti perchè ero tipo 2 miliardi perchè la mia play oltre alla memoria non è che riescano a reggere video di 28 minuti eh c'è scusate lo porto per Andre Vanilla perchè ieri quando ho fatto un video c'erano i miei soliti versi così e quindi poi io per sbaglio ho tagliato la parte male del video e c'erano solo più versi quindi come se avessi parlato vuoto quindi se avessi caricato il video voi potreste aver detto ma sto qua è scemo cioè cosa dice poi si ferma così che vuol dire l'ho fatto con la lingua naturalmente però sembra sembra con il sedere ma ti muovi qui voilà oggi quello che voglio andare a fare ho dovessi carmi come mi chiedete sempre un triccerato un po' un loptero il computer guci 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 gucio g luci guci guccio amico stai bene da gli ultimi giorni che non ho giocato con te sono innanzitutto affamato in più andiamo verso casa animali io ho registrato lo scorso episodio ma non ha caricato adesso ha detto di possibile caricare ci sono non so di volante quello laggiù dovrebbe essere casa mia un trilobite quello li vedo da tempo cosa ce l'abbiamo sì perché se lo chiedesse l'ho domesticato lo scorso episodio che però voi non l'avete visto allora raga io sono molto felice di questa cosa perché avevo chiamato terra però non me l'hai salvato perché l'avevo tolto l'ultima volta quindi terra voilà perché è una donna ok raga abbiamo anche lui c'è lei adesso cucino poi mi manca anche pochissimo a level up perché come avevo già detto nel level up dove voglio sbloccarmi voglio sbloccarmi questo questo e magari se riesco anche questo anzi anzi no magari se riesco dov'è vabbè mi mancano ancora tre livelli mi c'è riesco a me lo so che il mio upteranodonte non sia livello alto però cioè volevo domesticare un triccerato poi nello scorso episodio mi sono ritrovato con un upteranodonte guardate guardate raga guardate cosa faccio guardate seguimi singolo ok brava no va bene qua a terra a terra a terra grande adesso seguimi a terra 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 va bene mi seguite tutti ma perché vai aterrare fuori sì ma così non ti posso non posso uscire se ti metti davanti alla porta sì ma non posso ti sta bene c'è Aga se non lui non lei non vi è perché atterri fuori senti ragazzi se tu non mi ha ucciso di un otteranodonte sapete quanto me ne frega nulla cioè posso sempre dovessi carmelo un altro però ho messo anche un bel po' guardiamo oh la oh Sabin grazie ma i programmatori in questo momento ha salvato raga ma secondo voi dovrei continuare a sprecare sta armatura oppure veramente iniziare a passare a quest'altra perché io lo so ho dato due pantaloni due elmetti due guanti e due scarpe di cuoio vabbè per ora continuiamo con questa lo so che appena mi distruggono questa continuerò appena mi distruggono anche questi due vorrei ancora adesso we have da problem oh ho avuto un'idea guardate visto che devo fischiare i fischi di gruppo alle faccio modifiche gruppi qua non è ecco un portamento ignora fischi di gruppo esatto adesso lei non ha più se lo chiamo così non ce la non avrò più non ne rappi nulla perché no di nuovo Sabin ma una domanda come è possibile che prima che avevo bisogno di salvare non mi salvava mai e adesso che ho l'opterosi le stranezze di Ark ah io spero che siano contentissimi di questo ritorno su Ark vabbè raga io direi che posso anche concludere qua quindi ci vediamo alla prossima ci c'è ora che non dirà ciao